Quando mancano 43 giorni a faridico appuntamento dell'11 giugno si comincia a scaldare la campagna elettorale a Pratola Pelinia con i candidati sindaco, almeno quelli che hanno ufficializzato finora la candidatura, che avviano iniziative con elettori, artigiani e associazioni. Domani alle 11.30 presso il Teatro Comunale sarà il candidato sindaco di Pratola Bellissima, Antonella Di Nino, a presentare la sua squadra dei 12 candidati a Consiglio Comunale. Ho scelto con coraggio e passione di mettere a disposizione della città il mio impegno per aprire una nuova pagina amministrativa, sottolinea Antonella Di Nino, proporremo un programma innovativo, concreto e condiviso per rendere la nostra cittadina già bella, bellissima. E' una sfida entusiasmante che ho deciso di affrontare insieme alla mia squadra, con convinzione e con l'obiettivo di esaltare gli interessi collettivi attraverso una presenza amministrativa costante e fattiva che porti alla rinascita della nostra città. Continua il tour con gli artigiani, candidato sindaco del centro-sinistra Pratolano, che è Dano Di Cioccio, che lancia la proposta di istituire un centro di ascolto e consulenza a Pratola Pelinia. Dei loro suggerimenti, dalle proposte, ma anche dalle loro comprensibili proteste, è evidente quanto sia importante la presenza nel nostro comune di un apposito ufficio centro di ascolto e consulenza, che si occupi di dare risposte concrete alle loro istanze, salvaguardare il patrimonio delle conoscenze e creare le premesse per un incremento occupazionale, spiega Di Cioccio. La lista Pratola Insieme, che candida al sindaco di Pratola Pelinia, Alessandra Tomassilli, avvia il confronto con tutte le associazioni che operano sul territorio comunale. Appuntamento a martedì 2 maggio alle 18.30 presso la sede del Comuneato elettorale in Piazza Madonna della Libera. Pratola Insieme incontra le associazioni presenti sul territorio di Pratola Pelinia per ascoltare le loro problematiche quotidiane e le loro proposte per il rilancio del nostro paese, afferma il candidato sindaco Tomassilli. Nei giorni scorsi il gruppo è predisposto alle urne per raccogliere le proposte degli elettori.